La prefettura è stata particolarmente accorta quasi subito dalle indicazioni, quindi le idee sono abbastanza chiare anche credo tra i sindaci per far applicare il dispositivo. Non è una misura di repressione ma è di invito caloroso la responsabilità di ciascuno di noi. L'obiettivo è quello di andare a lavorare e stare a casa, limitare le occasioni di socializzazione. Questo lo dobbiamo fare per evitare delle situazioni molto più spiacevoli. Quindi l'invito a tutti i cittadini a leggere con attenzione le misure e a rispettare con grande senso civico quanto vi è scritto, stando a casa e quindi pensando che questo momento di emergenza si affronta solo con responsabilità. Poi arriverà il momento, e ci stiamo già lavorando in questo senso, diciamo così della ricostruzione e quindi del recupero anche delle attività economiche.